Pallone, lo scambio con per rotta, spinge comunque la Roma, dai, Rize, metti dentro questo pallone John, colpo di testa di Lusio, Taddei, destro di Taddei, Toni, Toni, andiamo! Guardi, 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 Junior, Toni, Toni... Luca Toni Luca Toni Luca Toni 2-1 2-1 2-1 mamma mia ragazzi mamma mia Luca Toni Roma 2 Inter 1 tutti sotto la curva tutti i giocatori della Roma sotto la sud ora ma gli unisci ci ammonisce ma ammonisci li tutti ma tira fuori tutti i cartellini gialli che vuoi non ci interessa Luca Toni Luca Toni come dice la canzone per me numero uno numero uno in assoluto esce De Rossi stremato non ce la fa più Daniele non ce la fa più Daniele dai Roma 2-1 per noi Toni cantiamo anche noi Toni ci facciamo veramente questa sera prendere dall'euforia perché la Roma vince qua 2-1 dai Luca dai Luca Roma 2 Inter 1 torniamo in vantaggio torniamo in vantaggio dopo sette minuti mamma mia in più ragazzi non ce la facciamo più grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti